La Giuseppe De Maria Production ti dà il benvenuto nel suo canale YouTube dedicato ai mezzi storici, e ti propone un video contenente una bella galleria di foto, aventi come soggetto un magnifico esemplare di Alfa Romeo 1750 Berlina, appartenente alla seconda serie prodotta, e immatricolata nel corso dell'anno 1970. Nello specifico, l'Alfa Romeo 1750 Berlina è stata una grintosa vettura dotata di carrozzeria a quattro porte, contraddistinta sportivamente dalle brillantissime prestazioni che essa sviluppava, esteticamente dalla sua spigolosa linea esteriore, opera della celebre carrozzeria Bertone, e meccanicamente dalla raffinatezza del suo schema costruttivo, che era un concentrato delle migliori soluzioni tecniche concepite dalla famosa casa automobilistica del portello. La brillante riuscita Alfa Romeo 1750 Berlina era quindi un'auto rispondente alla formula della classica vettura a quattro porte, che riproponeva tutte le soluzioni tecniche già adottate sulla popolarissima Alfa Romeo Giulia, rispetto alla quale però differiva per le sue dimensioni esterne, leggermente superiori, nonché per il diverso e più innovativo aspetto, frutto dell'applicazione di canoni estetici più moderni, e venne prodotta in due serie distinte, che riscossero entrambe un buon successo commerciale, a partire dall'anno 1968, e sino all'anno 1971. Grazie a tutti, grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.